ciao a tutti amici e bentornati come sempre in cucina con raffia la grande ragazzi per tutti gli amanti del caffè oggi andremo a fare un buonissimo spumone facilissimo con solo tre ingredienti senza ghiaccio e senza panna iniziamo con i nostri ingredienti che sono 5 grammi di caffè solubile e inseriamo una coppetta qui c'è 80 grammi di zucchero semolato se a voi vi piace più amarognolo che a me non piace potete leggermente diminuire la dose dello zucchero 40 grammi di acqua noi con tutti questi tre ingredienti che abbiamo inserito lo faremo diventare sfumoso bello come una panna mi raccomando montiamo sempre ebbene ragazzi dopo aver montato il nostro composto come vedete tipo una panna è venuto spumoso spumoso adesso lo inseriamo nel nostro bicchiere guardate che bontà bene ragazzi dopo che l'abbiamo inserito in un bicchiere se ci vogliamo divertire un po prendiamo delle scagliette di cioccolato inseriamo sopra una buona cannuccia e il gioco è fatto andiamo a tavola con un buon spumone al caffè per tutti gli amanti del nostro caffè beh spero tanto che questa ricetta velocissima e buonissima vi sia piaciuta mi raccomando fatelo perché andrà a ruba immediatamente mi raccomando spolliciamo alla grande mi raccomando iscrivetevi come sempre sul mio canale ci vediamo alla prossima ciao a tutti